Quali sono le auto elettriche più vendute nel 2023? Beh, in questo video lo scopriamo. Primo video del 2024 e come ogni tre mesi e come ogni anno non poteva che non essere l'analisi del mercato auto. Come avete visto il 31 dicembre non è uscito nessun video per ovvie ragioni quindi questo è il primo video del 2024 però prima di analizzare il mercato dell'auto vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale perché tantissimi di voi che vedete i video non è iscritta, ci vogliono letteralmente due secondi ed è gratuito. Quindi iscrivetevi e se vi piacciono questa tipologia di contenuti beh, lasciate un like e soprattutto vi aspetto nei commenti. però iniziamo subito con la nostra appunto analisi del mercato auto e come ben sappiamo insomma dal 2020 in poi il mercato dell'auto e le immatricolazioni dell'auto sono sempre state un pochino un po' ballerine tra virgolette. Come sempre vi dico i dati provengono sempre dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri quindi l'UNRAE, come ben sappiamo insomma dal 2020 ad oggi le immatricolazioni delle auto non è che siano andate molto bene. E come è andato il 2023? Beh, diciamo che come ben vedete dalla belle tabelline che ogni volta vi propongo le immatricolazioni delle vetture complessivamente ammontano 1.590.610 vetture quindi il 19% in più rispetto al 2022 è sicuramente una buonissima ripresa anche rispetto al 2020 però come ben vedete e come sempre vi propongo vi propongo anche le immatricolazioni del 2019 quando in pratica diciamo l'era tra virgolette era tutta normale quando c'erano appunto un parco immatricolato di poco meno di 2 milioni di vetture e un altro piccolo appunto da farvi per rendervi conto quanto eravamo messi nel 2022 è che nel 2022 eravamo veramente molto molto vicini al minimo storico di immatricolazioni che è stato registrato nel 2013 ed è pari a 1.304.500 vetture quindi rispetto al 2022 è sicuramente molto molto meno però c'è ancora un bel po' da fare considerando anche che nel 2023 soprattutto per i primi 6-8 mesi insomma i prezzi delle vetture erano ancora molto molto gonfi solo verso novembre e dicembre forse si sono un po' abbassati soprattutto i tassi di interesse quindi già in questi ultimi mesi quindi novembre e dicembre si sono registrate dei numeri di immatricolazioni sicuramente più notevoli rispetto al 2022 però andremo un po' a vedere anche come andrà il 2024 andando un pochino più nello specifico e come sempre vi propongo schematicamente nei grafici ecco per rendervi un pochino d'impatto i numeri che vi dico ora vorrei un attimo analizzare con voi in base alla alimentazione delle vetture ormai sappiamo che se non ricordo male dal 2021 le vetture ibride hanno superato le vetture a benzina o diesel dal punto di vista di immatricolazioni però ora vediamo per ogni alimentazione, ogni singola alimentazione come sono andate appunto le immatricolazioni rispetto al 2022 come ben vedete insomma tutte le alimentazioni segnano un segno positivo tranne ovviamente l'alimentazione a metano le vetture più vendute o immatricolate sono le ibride che considerano sia le mild che le full con ben 575.480 immatricolazioni insomma il parco auto comunque si sta un pochino più aggiornando rispetto anche agli scorsi anni soprattutto per le matricolazioni ibride che nonostante vengano considerate sia le mild che le full insomma è sempre meglio di niente analizziamo un attimo il mercato delle immatricolazioni delle vetture 100% elettriche sappiamo che le immatricolazioni delle vetture 100% elettriche insomma è un mercato quasi tra virgolette a parte però dal 2019 ad oggi sicuramente il parco circolante elettrico è molto molto più che raddoppiato però insomma per rendervi un attimo conto con i dati del 2019 erano poco più di 10.000 vetture immatricolate e quest'anno come vi ho detto anche poco prima sono esattamente 66.679 vetture immatricolate segnando ben il più 34,5% rispetto al 2022 come vedete rispetto al 2021 siamo esattamente poco meno di mille immatricolazioni in meno però considerate che nel 2021 c'erano gli ottimi incentivi che permettevano l'acquisto di una vettura elettrica con rottamazione con uno sconto fino a 10.000 euro insomma nonostante lo sconto come nel 2022 e come anche il 2023 o meglio gli incentivi per le vetture elettriche arrivavano fino a un massimo di 5.000 euro che è sicuramente molto molto meno rispetto al 2021 nonostante questo il parco di immatricolazioni di vetture 100% elettriche ha segnato anche secondo me un ottimo risultato e sinceramente pensavo molto molto peggio sarà assolutamente molto molto curioso il 2024 però aspettate un attimo perché ne parliamo tra pochissimo o meglio verso la fine un altro piccolo dato che secondo me è interessante che purtroppo allo stesso tempo lascia un po' il tempo che trova è per quanto riguarda la media ponderata dei grammi a chilometro in base al parco o meglio all'immatricolazione di vetture quindi si prendono tutte le vetture immatricolate si vede il ciclo WLTP quanti grammi al chilometro emettono ogni singola vettura e si fa una mega media nazionale come vedete molto brevemente il 2023 segna 119,5 grammi al chilometro poco di più rispetto al 2022 c'è anche da considerare che questa media ponderata è anche direttamente proporzionale in base anche alle vendite totali quindi come detto lasci il tempo che trova però secondo me è interessante ve lo butto un po' là insomma per rendervi anche un po' conto e ora arriviamo alla nostra top 10 di vetture elettriche più vendute nel 2023 e secondo me siete un po' stupiti della classifica perché mentre io la stavo scrivendo sono un po' rimasto un po' così ecco in decima posizione troviamo la Renault Twingo con 1697 immatricolazioni in nona posizione e questa è già una piccola sorpresa troviamo la MG4 con 2033 immatricolazioni sinceramente mi aspettavo delle immatricolazioni della MG4 decisivamente superiori visto che è un'ottima vettura che comunque nonostante sia cinese forse c'è qualche stereotipo da affrontare ma è un'ottima vettura che offre al mercato a un ottimo prezzo veramente tanta tanta roba però insomma non è stata una delle scelte più gettonate dagli italiani in ottava posizione abbiamo la Peugeot 208 con 2045 immatricolazioni in settima posizione una vettura che è molto carina secondo me e sto parlando della Renault Megane E-Tec con 2109 immatricolazioni sesta posizione abbiamo la Audi Q4 e-tron con 2147 immatricolazioni in quinta posizione e ancora tiene botta da quando è stata presentata sempre nella top 10 e secondo me è un'ottima scelta abbiamo la Dacia Spring con 2267 immatricolazioni in quarta posizione troviamo una vettura che come ben sapete non è che mi piaccia troppo però è sempre nella top 5 di vetture elettriche più acquistate o immatricolate e sto parlando della Smart 4 2 con 4639 immatricolazioni e ora arriviamo alla top 3 che potete già ben immaginare chi c'è al gradino del podio però sicuramente una cosa mi ha sorpreso è che il terzo posto è stato giudicato da Fiat con la Fiat 500 elettrica con 4749 immatricolazioni perché sono sorpreso? Perché secondo me la 500 elettrica faccio una piccola parentesi da quando è stata presentata era una vettura che ok che ci stava forse il prezzo era un pochino più alto però durante gli anni insomma si è un po' invecchiata un po' troppo velocemente perché? Perché in pratica il prezzo è lo stesso i chilometri che offre non sono tantissimi anche la batteria che offre non è grandissima però i competitor insomma ce ne sono e ce ne sono veramente tanti però allo stesso tempo mi sorprende che comunque la gente la acquisti anche perché sinceramente costa per carità però ci sono anche altre alternative meno anche costose forse un pochino più spaziose ma questo anche dipende dalle proprie esigenze se uno ha un garage eccetera però piccola parentesi che chiudo in prima e seconda posizione ovviamente chi c'è? abbiamo in seconda posizione la Tesla Model 3 con 7385 immatricolazioni e in prima posizione la Tesla Model Y con 8587 immatricolazioni quindi la prima posizione se la giudica la casa automobilistica americana e prende la prima posizione che nel 2022 era di Fiat con la 500 elettrica pensate che la 500 elettrica nel 2022 aveva venduto o immatricolato ben 6285 vetture quindi insomma due vetture completamente diverse segmenti completamente diversi però insomma è interessante anche notare questa tipologia di cose e concludiamo questo video con un piccolo accenno agli incentivi e cosa ci potrebbe aspettare in questo 2024 allora in quest'anno se gli incentivi dovessero essere così non so se avete letto qualcosa beh secondo me sarà un anno veramente anzi estremamente interessante come ben sappiamo insomma di vetture estremamente interessanti arriveranno proprio quest'anno e sto parlando praticamente in pratica di tre vetture e se gli incentivi dovessero essere realmente così beh il 2024 potrebbe veramente far decollare il parco elettrico però prima di dare le nostre conclusioni sugli incentivi volevo assolutamente aspettare l'ufficialità perché come ben sappiamo insomma mai dire mai qua in Italia soprattutto dal punto di vista burocratico quindi io vi chiedo qua sotto nei commenti se in caso volete un video non appena ci sono le ufficialità non appena abbiamo notizie noi anche giornalisti tra virgolette per quanto riguarda gli incentivi quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete proprio un video ad hoc così anche come gli altri anni insomma e ovviamente mi farebbe super piacere sapere la vostra di cosa ne pensate ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti di cosa ne pensate delle immatricolazioni dell'anno scorso e se tra le vetture che ho citato c'è anche la vostra che avete acquistato e forse anche vi state un po' mangiando le mani sentendo le ultime notizie degli nuovi incentivi detto questo io vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale lasciate un like non vi costa letteralmente nulla siamo veramente tantissimi nell'ultimo mese siete arrivati in tantissimi mi fa super piacere il 2024 spero vivamente che arriveranno nuove prove nuove emozioni insomma nuove cose buona continuazione su youtube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su youtube piccola curiosità per voi che siete rimasti proprio verso la fine del video perché nel 2023 sono state immatricolate pensate un po' meno vetture a idrogeno rispetto al 2022 ovviamente le vetture a idrogeno potete ben capire che sono veramente molto molto poche perché alcune le hanno le stesse case automobilistiche altre le hanno alcuni concessionari non c'è praticamente nessun privato a meno credo che ha proprio in proprietà una vettura a idrogeno però per darvi qualche numero infatti nel 2023 sono state immatricolate solo due vetture a idrogeno e sto parlando di due Toyota Mirai nel 2022 invece sono state immatricolate sei Toyota Mirai e cinque Hyundai Nexo piccola curiosità per voi che siete rimasti alla fine del video ciao